e che ci fai in casera che devo fare una denuncia che non sai che è successo mi hanno rubato la bicicletta a me è una cosa incredibile mi raccomando per piacere aprite indagini cari poliziotti l'anidroga agire il terrorismo seguite la pista del terrorismo la bicicletta non l'errore da combattimento ma un amico che devo andare a trovare i fedeli i peccatori non so questo mi ha fatto proprio le indagini le facciamo però voglio dire le voglio dare un suggerimento il paese qua è piccolo domani alla messa quando deve declamare i 10 comandamenti quando arriva al sesto non rubare si soffermi un poco di più qua sono tutti credenti un pentito verrà fuori veramente è un suggerimento noi le indagini comunque facciamo questo si non rubare vedrà che verrà fuori il pentito odo pepino a sabuta novità che novità finalmente ho trovato la mia bicicletta ah sono proprio contento non può sapere qua ma qui non fa come ho detto io ha recitato non rubare cioè praticamente mentre mi ripetevi i comandamenti è arrivato a quello che diceva non desiderate la donna d'altri mi sono ricordato dove l'avevo lasciata comunque grazie di tutto è stato un buona domenica arrivederci buona domenica